Siamo tornati con la Paranormal Investigation all'hotel un'altra volta per approfondire ancora l'indagine. Questo è il secondo piano ragazzi eh? Sì secondo piano, altrimenti abbiamo fatto il primo piano, come vedete ecco il primo piano, qui siamo al secondo, proveremo a metterci in contatto un'altra volta con la ragazza, stiamo andando piano avanti. Sì, perché comunque dicono che ci sono morti parecchie persone tossicodipendenti. Guardate qua, guardate qua, questo è un nastro, non si sa di che cosa, comunque è grossissimo, è enorme. Dovremo stare anche molto attenti perché qua ci sono anche dei piani che non c'è il pavimento sotto, se puoi andare anche sotto, facciamo un volo di 20 metri. Allora, accendiamo il K2, intanto ce l'è tu, no? Vediamo che cosa succede. C'è qualcuno qua con noi? Devo morire, ce ne stanno. Però, vediamo di approfondire l'indagine. Sopra c'è un altro piano qua, c'è un'altra scale. Dove si arriva? Andiamo a vedere. C'è una scale che salgono e una scale che scendono. Piano piano. scale che vanno su. Su che c'è, un altro piano? Non so. Andiamo a vedere l'altro piano. No, mamma mia. Su, chi c'è? C'è un altro piano. Andiamo su. Stiamo salendo per il terzo piano. Che cazzo? Ma che è una piccione? Non so, no. Non so. Un piccione, sì. Un piccione che è fuggito. Ah, ma qui è tutto aperto, vado su. Il piano poi è aperto. Quindi dobbiamo scendere giù. Dobbiamo mantenere il terzo piano qua. Il terzo piano non è stato più costruito, come vedete. Qui dentro è sempre più inquietante comunque. Allora. Stai iniziando a brillare, eh? Sì, sì. Beh, qua è attivo comunque. Molto, molto, molto attivo. Ok? Volevo proseguire un po' di più. Lo stai prendendo tu? Ok. Allora. Sta brillando, ragazzi. Guarda, allora ci stanno... Beh, qui ci stanno anche delle capre che si è entrata qua dentro. Sì. Stanno a posto. Vabbè, quel piano è un cubano, si può dire. Sì. Noi dobbiamo proseguire in questo. Manteniamo il nostro piano. Se c'è qualcuno qui... Se c'è qualcuno qui... Può fare un rumore? C'è qualcuno qui? Noi sappiamo che qui tutte le notti si affaccia una ragazza dalla finestra. Se puoi farti vedere... Puoi farti vedere? Fatti vedere. Puoi farti vedere? Adesso voglio provare a usare le telecamere SLS. Sì. Sì. Io sto con la telecamera SLS. Allora. Noi con questa telecamera possiamo vederti. Oh, oh, oh. Fatti vedere. Che so se rumori? Penso sia nelle capre. Puoi farti vedere? Con questa possiamo vederti benissimo. Vorrebbe capitare qualcosa. Porca materia, mi si preso un colpo. Che? Mi sembrava di aver visto là qualcosa, invece no, sono solamente... è murale e sale in fondo. Allora. Qui come vedete è tutto cartongesso. Ma davanti ne è cascata. Ma davanti ne è cascata. Qui capita qualcosa ma non riesce a prenderla. Secondo me abbiamo sbagliato... piano. L'altro... era meglio. Noi al primo piano ce l'abbiamo già indagato l'altra volta. Qui segnala qualcosa. Qui segnala qualcosa. Segnala qualcosa qua. Guarda, guarda, guarda. Qui capta qualcosa. Metti il K2 lì vicino al muro. Aspetta, dove? Vicino al suo muro qua. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda. Mamma mia. Si muove, guarda, si muove. Ma dove è lì? Si. Metti il K2 lì per terra. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Ma segnala pure a te. Dove si riusci... Se segnala pure a te, ok? Però prima segnalava anche qua. Eccolo. Adesso segnala a te e mi segnala anche ogni tanto qualche altro. Guarda, guarda. Guarda, guarda che roba. Infatti prende, eh. Mamma mia. Mamma mia. Questa è una di tante presenze che... No, non capisco dove inizia e dove finisce. Sembra che stia che hai braccia alte. Ma guarda che roba. Qui non segnala niente. Vabbè, segnala a te. Andiamo un po'. Andiamo un po' più avanti. Parliamo alla presenza che è morta qua. Una delle tante. Sta prendendo, eh. Brilla? Sì. Oh, c'è il mio capri qua vicino. Dove? Eh, che le stanno lì, stanno lì. Vabbè, fermo, fermo. Questo è un sacro? No. Anche perché sono due le capri. Sì. E sono molte volte così, no? Oh. Prende un'altra qua. Sentiamo qualcosa. Non c'è stato via. Questa non c'è lì. Oh, taccide, pippo. No, ci vuole che non faccia. Questa è la campanina dei capri. Vabbè, non ci interessa niente, ma... Lui, c'è lì. Lui, c'è lì. Lui, c'è l'altro. Il problema è che... Vediamo un po'. Vediamo un po'. Torniamo al secondo... Sempre al primo piano siamo tornati. Sì. E' pieno di piccioni. Sì, ma l'ultimo rumore non era un piccione, eh? No, però è un po' quello. Senti che qua dentro c'è pure più vento. Sì. Ma che cavolo, eh? Allora, siamo dentro a primo piano. Allora, arriviamo fino in fondo, l'ultimo siamo arrivati, e poi andremo via. Viene. Facciamolo piano piano. Molto velocemente. E andiamo via. Guarda la sostanza quant'è buia. Questo che era? Questo è il muro. Lo so. Hai sentito? Sì, sì. Hai sentito la roba? Questo era un piccione. C'è qualcuno? Piccione. C'è qualcuno qua? C'è qualcuno? aca, c'è qualcuno qua? C'è qualcuno qua. C'è qualcuno qua? Intanto capta, ma non capisco di che si tratta. Guarda, guarda, guarda. Qualcosina capta. Non c'è niente. Che cosa che era? Non lo so. Ho sentito un rumore. Ma no. Che te l'ha allegato? Qualcosa segnala? Sui muri? Guarda, guarda. Qualcosa segnala sui muri? Mamma mia. Ma non so di cosa si tratta. Persone morte. Eh, ma se muove, se muove, se muove proprio. Se muove proprio. Mamma mia. Vediamo il capo a due. Vediamo. Beh, infatti. Sì. Sì. Eccolo. Eccolo. Ehm, ogni... C'è l'è l'Undra. Vado, vado. Siamo riusciti a arrivare. Alla fine, te. Quasi alla fine. Ok. Ma per cosa è geniala? Ma non dà segni Piccione 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 Andiamo di qua Allora Io vado più avanti ancora Porca 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 No no via via Gio La 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 Che è successo? Andiamo là Ho visto una mano Dove? Non vorrei Non vorrei sbagliarmi ma è una mano Una mano che ha toccato il muro Ma che sta a dire? Non lo so solo ripresa Dobbiamo analizzarla perché stiamo con la telecamera SLS e ha infrarossi Ma davvero? Eh No speriamo da no Però adesso Ma dove? Qui Potremmo girare in questa stanza qua Porca si era messo proprio pure a girarci Aspetta Ma qui? Sì qua qua proprio qui Non c'è niente Ho visto una mano? Ho visto una Mamma mia Si segnala qualcosa Mamma mia Senti Sì Senti 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 Aspetta Aspetta Non c'è niente Aspetta Aspetta Ho sentito Che c'è?